Aveva ospitato gli screening per i cittadini di Pescara, ospiterà da domani, se si inizierà proprio nella giornata di domani, la cittadinanza per le vaccinazioni anti-covid. Parliamo delle palafiere di Via Tirino, sindaco, che voi avete allestito a tempo di record. Sì, abbiamo verificato che il palafiere funziona perfettamente per queste attività. Abbiamo fatto circa 70.000 tamponi oramai ai cittadini di Pescara, ogni weekend facciamo dai 4.000 ai 5.000 tamponi in quella struttura, funziona benissimo e quindi abbiamo deciso di trasferire lì la vaccinazione di massa. Quindi quell'area, quello spazio, il palafiere diventerà il centro vaccinale della città di Pescara. Fino a oggi abbiamo fatto le vaccinazioni al Palabecci, ha funzionato però non era delle misure tali da poter fare una vaccinazione diffusa, una vaccinazione di massa. Quella che noi vogliamo effettuare da qui a qualche giorno parliamo di 1.500 vaccinazioni al giorno. Per fare questi numeri abbiamo dovuto organizzare il palafiere come centro vaccinale. Abbiamo 16 postazioni, 12 dedicate alla vaccinazione di massa e 4 per i medici di base. Il palafiere sarà pronto domani e adesso aspettiamo che la Alcdica ci sono i vaccini per fare questi 1.500 vaccini al giorno. Pescara è tornata a zona arancione perché abbiamo fatto delle scelte oculate in queste settimane. Noi abbiamo avuto la variante inglese che ha colpito Pescara come prima città d'Italia e quindi abbiamo deciso da subito di chiudere tutte le scuole. Poi il governo ha fatto il provvedimento per la chiusura delle scuole nelle zone rosse. Noi in questi giorni stiamo proseguendo sia perché il presidente Marsiglio, nonostante l'Abruzzo sia in zona arancione, ha deciso di tenere chiuse le scuole fino alla primaria, quindi fino alla prima elementare. Noi su Pescara e anche nelle zone limitrofe, quindi Montesilvano, Spoltore, Cepagatti, Chieti, San Giovanni Tiatino, abbiamo comunque deciso di mantenere anche le scuole d'infanzia chiuse per questo periodo fino a Pasqua. Questo perché vogliamo cautelare il più possibile i cittadini di Pescara e vogliamo far sì che questi provvedimenti che abbiamo messo in atto e che stanno funzionando siano mantenuti fino a quando la curva non si sarà assestata in basso, così come ci dicono i medici dell'Asla. Grazie.